Bene, allora, sono di nuovo a torso nudo, non sono nudo, sono a torso nudo, io è che non pensi qualcuno che sia nudo, sono a torso nudo semplicemente perché fa tanto caldo. E poi io oggi non sto niente bene, quindi ho ritenuto giusto, sì, non stavo controllando, perché inevitabilmente vedete sempre che entra come una luce soffusa in cui non si riesce a distinguere assolutamente nulla. Non sembra che fuori ci sia solo un cielo infinito di luce bianca. Queste due macchioline rosse che si scorgono in mezzo sono il fermaglio del manico dell'antano che è rimasta così libera che sono dimenticato di pizzare. Ecco, va bene. Allora, niente, ero rimasto l'ultima volta sempre al concetto di anima nel orfinismo, che è un concetto determinato perché ha segnato una grande rivoluzione culturale e religiosa nell'Occidente. Cioè, rivoluzionando la mentalità ellenica, poi i concetti che sono nati nell'orfismo si sono propagati a tutto l'Occidente. In parte anche attraverso il cristianismo, perché anche se certamente c'è una differenza enorme tra le due religioni, bene o male, il cristianesimo ha un po' assunto quest'idea dell'anima che si trova nel corpo quasi come in un carcere. Cioè, anche se poi predica la risurrezione del corpo assieme all'anima, poi bene o male, bene o male, è l'anima che ha la meglio e c'è un certo senso di disprezzo nei confronti del corpo. Perché se noi pensiamo innanzitutto alla morale sessuale, l'astenzione sessuale, l'ideale ascetico dei monaci, il digiuno, la mortificazione, le flagellazioni, ecco, quindi la totale negazione del sesso, della sessualità, l'esaltazione della virginità, della castità, del vivere senza indulgere i piaceri della carne, no? Ecco, di nessun tipo c'è il senso, il cibo, comodità, ecco, camminare a piedi nudi, no? Perché ti fai più male, così, diciamocelo pure, che c'è un certo disprezzo del corpo nella tradizione cristiana, anche se poi adesso molti cristiani riniegano, perché si sono accorti che c'è questa, come dire, questa contraddizione, no? Affermare che il corpo è destinato alla risurrezione e quindi alla visione beatifica di Dio, tanto quanto l'anima, e poi invece maltrattarlo, negare che le sue esigenze, i suoi bisogni abbiano un qualche valore, no? Le due cose appaiono abbastanza incontrate, molti teologi se ne sono accorti, no? E quindi hanno cercato di ovviare a tutte le certe tradizioni che adesso ormai sono in disuso, anche presso i fanatici. Ah, poi, piccola parentesi che volevo dire all'inizio, ma non mi è venuto in mente, noterete che nell'ultimo video ci sono un sacco di non mi piace, no? Evitamente, come mai? Quello in particolare non è piaciuto, no? È che sono, è saltata fuori una nuova schiera di nemici, no? Non bisognesti, questa cosa, semplicemente leghisti, no? Perché siccome mi sono permesso di dire che Salvini è, a mio giudizio, no? Non per il gusto di insultare, ma proprio per una convinzione profonda. È un cretino, cosa dimostrata poi dalla faccenda delle vaccinazioni, no? Perché è un altro di quelli che sembrano dare più retta alle bufale che girano su internet che alla ragione, a chi, insomma, la sa più lunga di lui, no? E allora, ovviamente, c'è stato qualcuno, in prima linea, una certa, non so se sia realmente una donna, l'avatar è quello di una bella fataluna bionda che non so quanto corrisponda alla persona che sta dietro, che si firma fanatica e cristiana, no? Dico, beh, almeno questa fa capire subito che razza di persona è, no? Che dice, ah, ho i Salvini e allora beccati un non mi piace, no? Potete vedere nel precedente video e evidentemente c'erano anche i suoi amichetti e ci sono sette non mi piace, no? E' una cosa abbastanza shock e ridicola da fare, anche perché dovrebbero, dovrebbero star lì ad aprire tutti i miei 1650, adesso non so neanche i guanti, ne ho perso conto, no? Ma so che sono più di 1600 video, sta lì a mettere non mi piace su tutti i guanti e poi, tra l'altro, queste cose sono boomerang, perché allora, scusate, anche io potrei divertirmi a prendere tutti i canali di leghisti e tutti i nagrali di leghisti e divertirmi a mettere non mi piace su tutti i video che ci sono, sono una cosa abbastanza piccola assurda. Vabbè, piccola parentesi, no? Nel senso, non preoccupatevi, cioè quando vedete una sequela di non mi piace significa che ci sono i miei nemici, che è il naguato, che più che mettere non mi piace e mettere commenti sgradevoli non possono fare. Allora, riprendendo il discorso sull'anima, riprendiamo a leggere il testo di Giovanni Reale che è così ben fatto, come avete potuto notare, è molto, cioè Giovanni Reale era una persona molto documentata, cioè ha saputo fare la sua storia della filosofia antica in modo molto documentato, accurato, con ragionamenti molto approfonditi. Non dico che sia da prendere come orocolato, no? Ovviamente questo testo ha i suoi indifetti e anche Giovanni Reale, insomma, magari ha avuto delle tesi indiscutibili, però vi assicuro che se volete conoscere veramente a fondo la filosofia antica, per cominciare, questo va benissimo, no? Giovanni Reale è proprio, perlomeno a livello così scolastico, va proprio bene. Dunque, questo nuovo schema di credenze, come dicevamo, era destinato a rivoluzionare l'antica concezione della vita e della morte, come in modo paradigmatico, dice un celebre frammento di Euripide. Chissà se il vivere non sia morire e il morire invece vive. Perché prima, cioè noi vediamo che per il pensiero ellenico precedente, la mentalità ellenica precedente, morire era morire, no? Cioè, nei poemi omerici, quando l'uomo muore, appunto la sua umbra va nell'Ade e la sua vita è finita. La vita umbratile dell'Ade appare come appunto una sorta di limbo senza memoria, senza vera vita, no? È semplicemente un'esistenza da fantasmi, senza coscienza, senza memoria, senza volontà, no? Cioè, come un'ombra trascinata dal vento che prosegue la sua esistenza in modo inutile. Morire e morire, no? Cioè, manca poco a dire al di là della morte non c'è niente, diciamo c'è quasi niente, c'è qualcosa, ma è ben poca cosa, non è vera vita. Invece, l'immortalità è data solo agli dèi, l'eterna felicità è data solo agli dèi. Invece qua abbiamo un rovesciamento. Morire, invece, è un risvegliarsi alla vera vita. È questa vita che è ottenebrata, che non è una vita completa, piena, no? In cui l'uomo non può esprimere tutto se stesso. Perché è incarcerato? È incarcerato dai limiti del proprio corpo. La propria anima, invece, è divina, è libera, non ha limiti, è immortale, non può soffrire, se non per la tristezza del ricordo, forse, o non ha catene di nessun tipo, può andare dove vuole, può fare quello che vuole, no? Ed è appunto questa schercerazione che dobbiamo ottenere. La morte non è un evento triste, anzi, è un evento gioioso, se dopo l'anima non è costretta di nuovo a rientrare subito in un altro corpo, no? E quindi a essere incarcerato subito dopo. Cioè, proprio un rovesciamento del concetto della vita, della morte e dell'anima. Cioè, appunto, chissà se il vivere non sia morire, e il morire invece è vivere, no? Cioè, che essere in questo mondo significa essere morti. Si è vivi solo quando si va oltre questo mondo. E Platone nel Gorgia, Gorgia è uno dei suoi tanti dialoghi, proprio partendo da questa idea, mostra tutta la carica rivoluzionaria del nuovo messaggio. Esso postula una nuova impostazione di tutta l'esistenza, in particolare postula una mortificazione del corpo e di tutto ciò che è proprio del corpo, una vita in funzione dell'anima e di ciò che è dell'anima. Cioè, Platone non era orpico specificamente, ma noi vedendo le sue, diciamo, dottrine sull'aldilà, il modo in cui concepisce l'aldilà, l'anima, nei suoi testi, noi vediamo che decisamente è orpico come modo, come mentalità, no? Cioè, perché? Lui dice, il mondo, questo mondo corporeo è illusorio, è transitorio. Il vero mondo è quell'altro, quello oltre la materia, oltre il corpo, è il mondo dell'anima, no? E poi, con un piano ancora più elevato, quelle delle idee eterne, che sono sempre esistite e sempre resteranno. L'anima, invece, si spone che abbia avuto un inizio, a qualche parte non è ben chiaro, ecco, ma ha avuto inizio nel regno delle idee e si è trovato a cadere in questo mondo fisico. Di conseguenza, se, coerentemente, no? Qual è la conseguenza etica di tipo questo? Se il corpo è il carcere dell'anima, tiene prigioniera l'anima, è colpevole di mantenere prigioniera l'anima, e il sistema migliore per vivere è anche per assicurarsi che poi nel mondo di là noi non ricadiamo di nuovo nel mondo della corporità e vivere mortificando il corpo, cioè non dando retta alle sue esigenze, ai suoi bisogni, ecco, vivendo appunto in modo ascetico, mortificando il corpo, in modo che l'anima, quando si libererà dal corpo, resterà libera, non vorrà di nuovo discendere nei vizi della materia e del corpo, no? Ecco, questo è, questo, diciamo, questo antimaterialismo, spiritualismo estremizzato, poi si è trasmesso, diciamocelo, in parte al cristianismo, inevitabilmente, cioè c'è poco da discutere su questo fatto, naturalmente Giovanni Reale, che era cattolico, si guarda bene dal dirlo, però, però, cioè, è una constatazione che facciamo noi, dopo, insomma, ecco, e di conseguenza poi ha introdotto una mentalità ascetica nell'ellenismo, nella mentalità ellenica, poi si è trasmessa a quella romana, quando le religioni elleniche si sono diffuse a Roma, a Roma poi c'è stato il guazzabuglio di tante religioni, cioè non c'è arrivato solo l'ellenismo e neanche, tanto meno, neanche il cristianismo e l'ebraismo, ci sono arrivate tutte le religioni orientali, cioè lì, con l'immigrazione, ovviamente, come nelle grandi città di oggi, mescolanza di popoli, razze, culture, religioni, no? e di conseguenza di tutto un po'. Quindi, anche i romani sono trovati influenzati dall'orfismo, così come tutte, come da tutte le altre religioni che si trovavano nell'impero. Dunque, l'orfismo, capitoletto 3, l'orfismo è la credenza nella metempsicosi, la metempsicosi è quella che noi chiamiamo banalmente reincarnazione, metempsicosi è il termine colto, di origine chiaramente greca, guarda caso, non c'è da notare che il termine colto per indicare la reincarnazione è di origine greca, metempsicosi, cioè l'anima che passa da un'esistenza all'altra, adesso non conosco la precisa etimologia del termine, però chiaramente deriva da psiche, che significa anima e penso anche metà, metà, che in greco non significa metà, ma significa oltre, oltre, no? Tutti i termini in italiano che cominciano per metà di origine greca, perché sono tante le parole di origine greca nell'italiano, pensate, chiesa, enigma, economia, cioè tutti i termini diciamo, non da mercato ortofrutticolo, ma appunto che potete trovare dentro un libro, tutti i termini in qualche modo occolti sono di origine greca, quasi tutti, insomma. Allora, metempsicosi indica, cioè, fa capire che indica l'anima che va al di là di questa esistenza e si reincarna in un'altra. Dunque, abbiamo già accenato al fatto che l'opinione più diffusa degli studiosi è che in Grecia siano stati gli ortici a diffondere la credenza nella pelle, nei tempsicosi, no? Certo, più che altro perché non si capisce da dove altro avrebbe potuto diffondere la teoria della dottrina della reincarnazione in Grecia, cioè, a meno che non pensate che sia passato dal parco buddista, insomma, sono stati loro i primi a parlare di reincarnazione e metempsicosi in Grecia. Già lo Zeller, pur così restio ad ammettere che i misteri abbiano avuto un'incidenza di rilievo sulla filosofia, scriveva in ogni caso ha per sicuro che fra i greci la dottrina della trasmigrazione delle anime non è venuta dai filosofi ai sacerdoti, ma dai sacerdoti ai filosofi. Cioè, cosa vuol dire? Beh, Zeller, innanzitutto, è stato anche lui un grandissimo storico e bibliografo della filosofia antica, no? Ecco, e Reale lo cita spesso come possiamo dire come la maggior fonte di studio più geografica della storia della filosofia antica cita continuamente tutta la sua opera. dunque cosa dice esattamente Zeller? Nonostante non volesse cioè tedesse a ridimensionare l'influenza dei misteri delle religioni misteriche che c'era solo l'orfismo non ce n'erano altri sulla filosofia dice per quanto riguarda la mente psicosi possiamo dire che non l'hanno inventata il filosofo perché infatti il filosofo la filosofia non ha inventato dottrina di tipo religione perché c'è tutto quello che riguarda l'altilano non è oggetto della filosofia riflette razionalmente sul mondo che appare e su ciò che trascende il mondo certo fa una forma di riflessione filosofica fin tanto che riteccia per esempio l'esistenza di Dio la natura di Dio in riferimento a ciò che vede cioè di questo mondo specula appunto sulla natura di Dio in base a quello che vede qui ma sul misterio dell'anima tematizza cioè sul misterio dell'anima tematizza la sua esistenza la sua natura ma non filosofia in genere tutta la sua storia non ha parlato del destino dell'anima dopo la morte perché lì cala un muro nero non si può speculare tutto quello che si vuole di conseguenza la filosofia che è sì pensiero riflessione sul senso dell'esistenza ma in base alla ragione non in base alla fede e quindi si pone dei limiti la filosofia non va oltre determinati cioè dove la mia riflessione non può arrivare perché non ci sono riscontri di nessun tipo come appunto la vita dell'aldilà posso al limite tematizzare che esista qualcosa al di là della morte ma non mi sbilancio a dire come possa essere non lo so non l'ho mai visto non ho dato il merito no e dice appunto è venuta dai sacerdoti ai filosofi cioè i filosofi sono arrivati a credere alla meta e psicosi in fin dei conti per motivi religiosi perché sono stati influenzati dalle dottrine dei sacerdoti ellenici sacerdoti dei misteri e qui devo chiudere e vederci è venuta a fare e qui